Buongiorno amici ma soprattutto amiche del Biker Raft e benvenuti in questo approfondimento chiaramente su One Piece Di che cosa devo parlare io se non di One Piece? Potrei parlare di mille cose perché ne so veramente un sacco su tante cose Ma so che a voi piace particolarmente che io parli di One Piece Quindi parleremo di One Piece anche oggi Allora, ho pensato di fare questo video semplicemente perché ho visto scannarsi parecchie persone Sulla questione della spada di Zoro che taglia il buon Kaido La faida è questa, è stato Zoro a tagliarlo o è stato Oden a tagliarlo? Perché Oden? Perché la spada, chiaramente la spada Enma è appartenuta a Oden E noi sappiamo che nelle spade ci sono cose strane che succedono al loro interno Ovvero che risucchiano l'ambizione del vecchio possessore E quindi diventano come parti di loro stessi eccetera eccetera Ma, 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 nel caso di Zoro probabilmente non è così Io stesso pensavo fosse stato Oden a colpire Kaido sul momento mentre guardavo le scan Però poi, siccome per parlare bisogna conoscere e il manga ci racconta tutto Quindi il buon Oda è anche bravo a lasciarci indizi e lasciarci testi su volumi precedenti Su capitoli precedenti per far sì che poi noi arriviamo a capire determinate cose Solo che con lettura a capitoli settimanali questo spesso è anche una cosa favorevole a noi Perché ci dimentichiamo il dettaglio, ci dimentichiamo il particolare, ci dimentichiamo il dialogo preciso in una determinata circostanza E quindi è sempre bene, è sempre bene tornare indietro e leggere E rileggere soprattutto Perché One Piece è una grande opera Ma per essere compresa va riletta Spesso e anche volentieri Quindi se voi non lo rileggete È inutile che poi parlate Perché non capite assolutamente quello di cui state parlando Non perché siete stupidi Ma perché Oda che è uno stronzo E ha un prodotto che va riletto in continuazione per capire cosa succede Detto ciò, questa infervorata me la potete anche perdonare Vado a leggervi cosa disse Tenguyama Itetsu Ovvero il Tengu forgiatore di spade Quando ha dato la spada Enma a Zoro Allora io vi prendo il dialogo preso, preso, preciso, preciso Tradotto da me e il mala Allora Tenguyama dice Beh io sono Tenguyama Itetsu Un forgiatore di spade del paese di Wano Per vent'anni ho atteso il giorno in cui avrei potuto restituire a voi due Kodeste spade Sto parlando chiaramente con Maunosuke e con Iori Le antiche preziosi lame appartenute a Oden Sama A meno a Bakiri In grado di tagliare i cieli Ed Enma Capace di tagliare le profondità dell'inferno Entrambe come Shusui Appartengono alle ventuno spade di ottima fattura Per quanto riguarda Enma È tua E la da a Zoro Ma permettimi di dirti una cosa Kozuki Oden fu l'unica persona di questo paese Di questo paese In grado di domarla Essa rilascia arbitrariamente il riuo del suo portatore Tagliando molto più del necessario Mi fermo un secondo qui Perché è giusto focalizzarsi qui La palora riuo Non è un aki specifico Un aki diverso Ma è l'aki Degli armamenti Soltanto chiamato così Nel paese di Wano Ce lo dice Ampliamente Esplicitamente Io goro dei fiori Quindi il riuo non è una cosa a parte Non è quello che Rufi emette adesso con i colpi di mano Quello è sempre ambizione degli armamenti Solo che a Wano lo chiamano riuo Ma lo chiamano riuo tutto l'aki degli armamenti Come a Skypeia chiamavano mantra L'ambizione con la tonalità dell'osservazione Questo deve essere chiaro Se voi non lo capite Siete dei dementi Perché il manga ve lo dice Ve lo dice il manga Basta aprirlo Leggerlo E capire quello che c'è scritto Quindi il riuo non è una cosa nuova È l'ambizione degli armamenti Punto Dice che Emma rilascia arbitrariamente L'ambizione degli armamenti del suo portatore Tagliando molto più del necessario Poi dice Se fossi stato uno spadaccino qualunque A quest'ora saresti collassato a terra Completamente prosciugato Davvero ammirevole Allora che intenzioni hai? Preferisci un'altra spada? E Zoro gli dice No me la tengo Emma Quando mi sarò abituato a lei Sarò diventato più forte Eccetera eccetera Poi Itetsu continua Dice Emma è come una spada maledetta Non può essere gestita dai deboli Inoltre il fatto che ti sei abituato ad essa Sembra un disegno del destino Quella spada bianca La guado i cimongi Ed Emma sono state create Dallo stessa persona Ossia dal maestro artigiano Shimotsuki Kosaburo Un uomo che lasciò il paese illegalmente Più di 50 anni fa Forse Iori ha riconosciuto quella spada Pertanto ha deciso di affidarti Il cimeglio di suo padre Emma non è ancora una spada nera State farla salire di livello Allora Qui abbiamo tutte le informazioni Per capire cos'è successo Durante il combattimento contro Kaido Ovvero Emma estrae L'ambizione degli armamenti Da Zoro E La rilascia Arbitrariamente Quanto pare piace a lei Quindi Il fatto che Zoro Riesca a tagliare Kaido Con Emma Non è dovuto al fatto che la spada fosse di Oden Ma è dovuto al fatto che Emma Usa più ambizione Di quello che Zoro Riuscirebbe a dimettere normalmente Perché gliela risucchia dal corpo Infatti Zoro è veramente stanco morto Proprio perché Emma Fa queste cose Il fatto che la spada È sicuro Che non abbia L'ambizione di Oden È dovuto al fatto che La spada È una spada non nera Cos'è una spada nera? La spada nera è come quella di Mioc Ovvero che ormai È talmente imbevuta Di ambizione degli armamenti Il rio di Iguano Che ormai La lama Si è tramutata In nera È diventata nera Completamente nera Quindi Quando la spada diventa nera Significa che ormai Ha assorbito talmente Tanta ambizione Del proprio proprietario Che non ha neanche più bisogno Di Prenderla dal corpo Del proprietario Perché ormai Ha una Una ambizione Lei stessa Sostanzialmente Quindi Emma Che non è una spada nera Non ha ancora L'ambizione Della persona Che la utilizza Infatti Il terzo gli dice Non è ancora nera State farla salire Di livello Quindi in questo caso Significa che Emma Non ha dentro di sé L'ambizione di Oden Potrebbe averne un po' Potrebbe avere qualcos'altro Abbiamo parlato anche Nei fact checking Del fatto che le spade Sembrano aver ereditato La volontà La volontà Del proprio spadacino Perché c'è Tutta la storia Del fatto che gli oggetti In Giappone Acquisiscono l'anima Della persona Che li tocca E quindi potrebbe essere Che Emma Dentro di sé Conservi La volontà di Oden Più che l'ambizione E infatti in quanto Spada di Oden Riesce a tagliare Kaido Perché Oden Poteva tagliare Kaido Oden voleva tagliare Kaido E quindi anche la spada Vuole portare a termine Quella missione di Oden Quella volontà di Oden E quindi Kaido Riconosce nella spada L'energia di Oden La spada di Oden Praticamente È come se Emettesse La stessa energia Di Oden La stessa volontà Di Oden Ed è probabile Che al suo interno Ci sia anche Un po' di ambizione Di Oden Ma quella che Estrae dal corpo È quella di Zoro Perché la sta utilizzando Quindi Chiudo il discorso Visto che mi sono già Anche prolungato troppo Su una cosa Così sciocca Su cui anch'io Non avevo veramente capito Perché non mi ero andato Rileggere questi dialoghi È che Enma Usa l'energia di Zoro Quindi l'ambizione di Zoro Il reward di Zoro Per colpire Kaido Taglia Kaido Perché Zoro Ha l'ambizione Anche per farlo Perché se non avesse Abbastanza ambizione Non riuscirebbe nemmeno A tagliarlo Questo deve essere chiaro Sicuramente Nella spada C'è anche L'ambizione di Oden C'è anche La volontà di Oden E questo chiaramente Aiuta La spada A raggiungere Il proprio obiettivo Secondo me Il discorso è chiarissimo È semplicemente È Zoro Che può tagliarlo Perché ha l'energia Per farlo E la spada Chiaramente Gli dà anche Quel quid in più Quindi è un po' Un po' Non c'è No la spada È quella che colpisce No è Zoro È una somma di elementi La spada di Oden Con la volontà di Oden E anche probabilmente Un po' di ambizione di Oden E la grande ambizione di Zoro Con cui voleva Chiaramente salvare Il proprio capitano E colpire duramente Kaido Con la spada Spero che Sia tutto chiaro Noi ci vediamo In un prossimo video Fatti bravi E non scannatevi troppo Su queste cose Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo